Buongiorno, buon sabato mattina, benvenuti al consueto appuntamento quotidiano con la carta stampata, occhio ai giornali, sono le 7.30, un saluto va anche a quelli che ci seguono in replica alle 9.00 e alle 13.30, benissimo, guardiamo subito come di consueto in apertura il santo del giorno San Pier Damiani Vescovo, oggi è sabato 21 febbraio, il sole è sorto alle 6.58 e tramonterà alle 17.46 Previsioni del tempo, guardiamo subito la webcam posizionata qui sopra a Fano TV che guarda verso Pesaro come vedete il cielo è terzo, limpido e si prospetta una bella giornata Vediamo anche che cosa ci dice la nostra stazione meteo, la temperatura è 7,4 gradi centigradi il percepito sono 7 gradi, un'umidità del 70%, vento praticamente assente e ancora naturalmente le previsioni del tempo della protezione civile, guardiamo che cosa ci dicono appunto loro e naturalmente la postazione meteo la potete trovare anche sul nostro sito web o la notizia.it, andate lì sopra, cliccate e vedete in tempo reale sia la webcam che tutti i dati meteorologici Allora guardiamo la protezione civile, per oggi che cosa ci dice? Cielo parzialmente nuvoloso al mattino con delle velature, copertura in un ulteriore gradevole aumento per nuvi stratificati, quindi ci sarà un cielo e una variabilità nell'arco della giornata Forse le precipitazioni ci sono nella tarda serata, però più che altro vedete sui rilievi nella giornata di domani, anche qui il cielo però si presenta molto nuvoloso quindi scompare la simbologia del sole, le precipitazioni sono diffuse, quindi pioverà anche a carattere di rovescio, vedete compare la simbologia della saeta, del fulmine quindi insomma ci saranno temporali anche su tutta la regione, vedete anche la provincia di Pesero è interessata da questi fenomeni abbastanza importanti a carattere di rovescio compaiono le nevicate che insomma avranno un limite di 1300 metri e 1600 sui sibillini temperature, i valori minimi sono insensibili aumento, quindi previsioni per lunedì vedete anche qui il sole fa un breve capolino però nella provincia di Ancone e di Macerata verso il basso della nostra regione, verso il sud, però nelle zone centrali e nord vedete continua la nuvolosità e la pioggia, come sarà la tendenza per i giorni successivi tempo instabile sulle marche, quindi si prospetta una settimana di tempo instabile fino alla giornata di giovedì per cui metà della settimana se ne andrà con questo tempo è una marcata diminuzione delle temperature nella giornata di mercoledì quindi avremo una giornata molto fredda, mercoledì, quindi insomma carpe, sciarpe, cappelli e guanti per la giornata di mercoledì guardiamo i giornali, che cosa ci fanno vedere allora, iniziamo dalla tragedia di Giulia sono stati sentiti gli amici, i familiari, i compagni per dare un senso se è possibile casomai dare un senso a episodi come questo un senso all'abisso, l'autopsia ha sentenziato appunto che il trauma al torace per la caduta è stato fatale naturalmente ci sono le indagini in corso per cercare di capire che cosa c'è alla radice di questo episodio si controlla il cellulare della minorenne, i suoi oggetti e il computer il preside Tinazzi ha accompagnato uno dei militari a incontrare i ragazzi del Mamiani, la sua scuola e cambiamo argomento, andiamo nella questione delle patenti nautiche il luogo tenente confessa e va ai domiciliari l'inchiesta delle patenti nautiche all'Oiacono ero contestati tre episodi, però l'altro militare nega indaga il PM di Rimini sette imprenditori pesaresi anche all'attenzione altri 30 sono al vaglio una cosa che riguarda sempre la nautica il porto, vedete in questa immagine la secca che sta attanagliando il porto canale di Pesero un fenomeno legato, dicono i marinai, al cambio della luna nuova e naturalmente anche su Fano ci sono problemi sulla nautica abbiamo visto ieri nel nostro servizio di Occhia alla Notizia insomma malumori è veramente una situazione che sta arrivando quasi all'esasperazione dopo l'ennesimo incidente, appunto clamorosa protesta dei pescatori e dicono ce ne andiamo a Pesero quindi sloggiano e chiedono appunto alla Capitaneria di Pesero di andare nel porto di Pesero a nautica però intanto il settore del diportismo insomma tenta di riemergere con 13 milioni il gruppo Azimut Benetti investirà il primo passo sono nuove strade e la passeggiata dell'Isipo realizzazione di scafi da 45 metri questo è il loro obiettivo e i lavori sono all'avvio entro poche settimane e la firma della convenzione tra il Comune e Marina Group rimaniamo nelle pagine di Fano la fusione è Aset restano fuori i grillini questo è insomma il lancio della politica il sindaco dovrà farsi garante dell'operazione ma un'altra cosa in centro pagina che abbiamo più volte sentito riguarda naturalmente la sezione dell'agrario a Fano doveva essere allocato al Codma ma sfuma questa probabilità sfuma la sezione fanese Mascarin dice ci sono troppi problemi l'assessore Mascarin difficile mettere insieme i tre soggetti il Comune, la Provincia e l'ufficio scolastico e poi vi segnaliamo un episodio una pentola lasciata al fuoco allarme incendio in via Soncino è stata lasciata questa pentola antiaderente magari sul fuoco e senza nulla dentro e quindi insomma inavvertitamente questo poteva creare innescare un incendio di più grandi proporzioni insomma non lasciate le pentole sul fuoco sono pericolose ancora dalle pagine di Fano e Valcesano Pergola però andiamo nell'interno la giunta Baldelli sfiderà la crisi come la sfiderà con un corposo piano di opere pubbliche finanziato anche dall'Europa scuole, strade, verde e la nuova caserma dei carabinieri che vedete qui nella foto è già affidato all'ufficio tecnico la progettazione della nuova stazione dell'arma e poi in testa di pagina le foto di due presunti ladri moldavi caccia al terzo chi li riconosce sono state date le autorizzazioni a pubblicare le foto da parte della procura perché si cerca se qualcuno li ha riconosciuti di rintracciare il terzo complice perché pare che questi fossero dediti a entrare negli appartamenti e quindi forse qualcuno li ha riconosciuti la piaga dei furti negli appartamenti comprese anche le persone all'interno sono veramente una piaga che abbiamo conosciuto tutti in queste cronache di questi ultimi mesi non a caso insomma Seretti ha fatto un giro con l'iniziativa appunto che la Proloco ha promosso insieme al Comune e questo feedback tra forze dell'ordine e cittadini per qualche utile consiglio se non avete potuto presenziare a questi incontri sul nostro sito c'è anche il servizio che abbiamo dedicato a questo ultimo incontro dove Seretti proprio dichiara che cosa è bene fare cosa è bene non fare e comunque loro sono sempre a disposizione per darvi utili consigli per fronteggiare quanto è possibile con piccoli accorgimenti questa piaga dei furti in appartamento cambiamo testata andiamo al Corriere Adriatico la pagina di Pesero sempre la nautica all'attenzione per il porto è stato stanziato un milione e mezzo il provitorato annuncia prolungamento del molo di Levante e demolizione di quello di Ponente il comandante Angelo Capuzzimato annuncia quindi il ripristino della corsa in Catamarano verso la Croazia e poi la tragedia di Giulia ripresa anche dal Corriere Adriatico con il ricordo e il dolore dei compagni di scuola dei licei di Pesero e Urbino rose bianche e rosse sul banco di Giulia dicendogli appunto Giulia sei una stella che brilla e questi sono gli aspetti più dolorosi di queste vicende il dopo ciò che rimane ciò che resta il ricordo degli amici e il dolore penso sicuramente incolmabile di quanti l'hanno conosciuta ancora una vicenda una tragedia che ha visto una giovane vita spezzarsi sulla strada però uno schianto muore un ragazzo di 21 anni esce di strada siamo a Sasso Corvaro dopo un sorpasso viene travolto da un'altra auto e naturalmente anche qui strazio di amici e parenti andiamo a Pesero per una questione completamente diversa è il welfare e quindi il nuovo attivo centro per le famiglie il sindaco dice è un vero front office il sindaco Matteo Ricci la pagina di Fano del Corriere Adriatico Carifano Tombari insomma Lara Ricciatti Lara Ricciatti l'onorevo Ricciatti censura i troppi ruoli del presidente Maxi Debbio di Madonna Ponte con medio leasing e quindi la Ricciatti boccia il ruolo del presidente e chiede le sue dimissioni ancora l'ultima testata la vediamo è quella del messaggero pagina centrale Caos Libia qui si apre con un'altra questione che riguarda le nostre aziende che le aziende del comparto pesarese mobile e quant'altro che avevano nell'export avevano nell'export una delle insomma poche voci attive aveva segnato il più 8% rispetto all'anno passato il comparto dell'export era una vocina inattivo rispetto alle tante negative e pare che insomma la crisi libica purtroppo è anche questo un risvolto negativo perché Caos Libia l'export perde i pezzi e quindi aziende in fuga esportazioni K.O. così il distretto Pesareti dice addio a uno storico mercato la Camera di Commercio si aggiunge alla difficoltà che abbiamo appunto con Russia e Ucraina sempre per motivi di politica dei paesi in questione apre appunto il centro per le famiglie uno sportello contro il disagio e questa era la pagina di apertura del messaggero e anche la politica naturalmente la politica è veste regionale quella che ci sta riguardando in questo in questo periodo e naturalmente a Pesaro ci sono le primarie sette giorni caldi e domani faccia a faccia tra i due appunto duellanti che sono Ceriscioli e Marco Lini la sfida dei due democrazia si intensifica oggi l'ex sindaco è qui a Fano l'ex sindaco di Pesaro Ceriscioli e l'assessore pesarese e l'assessore nel pesarese Marco Lini rimane in casa i seggi saranno almeno 400 il maltempo spacca chiede il conto a Renzi al governo centrale chiesti 80 milioni per i danni a strutture pubbliche a strutture private 80 milioni di danni per il maltempo degli ultimi giorni e allora vediamo il caos libico l'export perde un altro partner appunto un partner importante fino a pochi anni fa il distretto del mobilo faceva affari d'oro con il paese africano ed ora non sarà più possibile ultima pagina quella del messaggero dedicata a Fano yacht e barche a vela il vento della ripresa stiamo parlando naturalmente della nautica canteristica Marina Group annuncia l'avvio dei lavori e quindi questo è stato sicuramente uno dei comparti più trainanti dell'economia pesarese farese e pesarese anche che ha subito grossi grossi insomma grossi problemi grosse battute d'arresto ecco per la crisi e adesso speriamo che riprenda con tanta occupazione che tante maestranze che erano dedicate a questo comparto e poi camera confcommercio Villa Piccinetti chiusa per una questione di abusivismo Varotti plaude perché va contrastata questa questa tentation che Varotti aveva appunto minacciato con una classation direttore di confcommercio però sui social Villa Piccinetti dice manteniamo la calma torneremo presto e parla della festa della donna fusione tra Aset alle sue linee guida e quindi insomma la fusione di Aset e il consiglio comunale ha trovato le linee guida e poi appunto Comar Pesca la protesta degli addetti al comparto dell'Ittico andiamo a Pesaro bene questa era l'ultima pagina che sfoglievamo per oggi per questa mattina grazie per essere stati in nostra compagnia la resegna stampa torna lunedì mattina alle 7 7.30 puntualissima e questa sera l'appuntamento con le notizie con occhio alla notizia edizione flash del sabato grazie per essere stati in nostra compagnia buon sabato a tutti voi a tutti i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori